L'obiettivo è consentire agli esercenti di lavorare più possibile per l'estate, così il Comune accelera sui lavori in piazza Duomo, con un'ordinanza del Sindaco Biondi che consentirà agli operai di lavorare anche dopo le 19, rispettando i limiti per il rumore. Insomma, dopo qualche polemica e qualche ritardo dovuto al maltempo, si potrà lavorare pure di notte per restituire prima possibile porzioni più ampie di piazza. Le operazioni potranno essere proseguite dalle 19 sino alle 2. Il prossimo step sarà riaprire un tratto della parte alta della piazza, dopo che nei giorni scorsi è stato riaperto il lato vicino alla cattedrale del Duomo. Terminato il primo lotto, si lavorerà sulla parte delle exposte e a seguire al centro della piazza nella prima parte dell'ellisse. La parte che comprende invece le anime sante sarà rimandata a settembre. La fine dell'appalto da 7 milioni di euro è prevista per la primavera del 2024. Sicuramente è un passo importante, non è sicuramente risolutivo, perché i problemi vanno oltre il cronoprogramma del cantiere di piazza Duomo, però è sicuramente meglio di niente. Ecco, come sono stati questi mesi per voi commercianti che vi affacciate proprio sulla piazza? Beh, sicuramente difficili. Più che mesi parlerei di anni. Quello è il problema più grande. Tante persone sono tornate in centro da tanto tempo e adesso non ce la fanno più. Ci saranno due stop programmati per perdonanza e Natale. Tra qualche giorno invece dovrebbero concludersi i lavori al corso stretto. Da una quindicina di giorni la ditta è arrivata alla Fontana Numinosa. In questo caso l'opera è finanziata da 5 milioni di euro, sempre del PNRR. Grazie a tutti.